Ciao, sono Enrico Luciogli e in questo video andiamo avanti con le sequenze di pugilato. Oggi finiremo quello che abbiamo iniziato nei due video precedenti, cioè le sequenze dei colpi doppiati. Fino adesso abbiamo visto come eseguire con lo stesso braccio sia l'attacco rettilineo concatenato all'attacco circolare, che diversi attacchi rettilinei concatenati tra di loro. Oggi vediamo invece come concatenare tra di loro solo attacchi circolari. Quando vogliamo attaccare con una doppia sequenza di colpi circolari, le variazioni più interessanti sono tra l'attacco basso e l'attacco alto. Questo è molto utile perché in combattimento può far scendere la guardia dell'avversario e generare nuovi spazi. Per cui se io attacco al fianco, il compagno cerca di parare al fianco e abbassa un po' la guardia, mi lascia libera la testa. È vero anche il contrario, io attacco il viso e poi mi si apre il fianco per sferrare l'attacco. Un'altra variazione possibile è quella che in gergo viene chiamata Tyson Sirius perché Mike Tyson usava tantissimo questa tecnica. Se vuoi vederti un po' di highlights dei suoi combattimenti, vedrai che tantissimi KO sono stati sferrati in questo modo. Lo usava soprattutto con la mano destra, ma noi la vedremo anche con la mano sinistra, la possibilità di tirare un bodyhook, quindi un gancio al corpo e successivamente di entrare con un uppercut. Quindi abbasso, piego l'altro e poi successivamente entro con il montante. Le vediamo con i colpitori. Quindi la prima sarà jab, gancio basso, gancio alto, cross. Possiamo fare anche il contrario, quindi jab, gancio alto, gancio basso, cross. È possibile lavorare anche sul lato del cross, in questo caso per esempio per dare continuità alla serie, se vogliamo comunque finire col baraccio destro possiamo aggiungere un gancio avanzato, avremo nella sequenza jab, gancio basso, gancio alto, gancio alto, cross. Potevamo anche fermarci subito dopo il secondo gancio alto. Vale anche il contrario per cui facendo alto basso, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E per finire abbiamo quella che abbiamo detto prima che è la sequenza tipo da Tyson. Quindi abbiamo nella routine andiamo a lavorare per esempio con jab, cross, gancio basso, montante. Quindi faremo jab, cross, gancio basso, montante. Oppure dall'altra parte possiamo come sequenza partire direttamente da jab, gancio basso, montante e fermarci qua o aggiungere un gancio cross se vogliamo. Li vediamo una volta in velocità. Una volta che ti saranno chiari gli elementi di base creare delle nuove serie sarà semplicissimo perché potresti benissimo iniziare a mescolare tra di loro le varie serie. Nulla ti vieta per esempio di mettere insieme la serie doppiata rettilineo circolare con la serie doppiata del doppio colpo circolare. Per cui avere per esempio cross, gancio basso, gancio alto. Oppure potresti avere doppio jab, gancio alto, gancio basso, cross e così via. Perché come i mattoncini delle Lego possono essere inseriti gli uni sugli altri creando comunque delle combinazioni estremamente efficaci. Ora che hai tutte le informazioni che ti servono non ti resta che provarle. Buon allenamento!